Sono molto arrabbiato, molto avvilito, molto preoccupato. Questa notizia è arrivata ieri pomeriggio. Non mi permetto di dare giudizi sul comportamento di altri giornali. A noi è sembrata una notizia enorme e stamattina ci abbiamo aperto libero. Questa mattina sui primi cosiddetti grandi giornali italiani, su due la notizia non era nemmeno in prima pagina, su un altro c'era un richiamino in prima e poi bisognava andare a pagina 20. Ora immagina se i colpevoli fossero stati sette estremisti di destra, sette nazi skin o sette ungheresi, avremmo avuto dirette televisive. Stai dicendo che ci sono sette egiziani e non gliene prega a nessuno. Io sto dicendo che viviamo in un paese curioso dove le stesse persone che hanno fatto campagne contro il patriarcato sul corpo delle donne, sui diritti, eccetera, improvvisamente quando c'è un racconto che per qualche ragione, non so, turba la loro narrazione, spengono e staccano la spina. Io trovo questo pericolosissimo. Io trovo questo pericoloso.